Nella zona di Grotta Rossa avrebbero estratto marna calcare, ovvero materiale utile a creare calcestruzzo, però per edili. Più di 15.000 m2 oggi sotto sequestro, convalidato dal jeep di Caltanissetta, su cui due scavatrici e sei camion avrebbero lavorato abusivamente. Un vero e proprio pugno nell'occhio sul territorio paesaggistico, immerso tra i vigneti. I presunti responsabili dell'estrazione abusiva sono stati segnalati all'autorità giudiziaria competente, scoperti dagli uomini della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nel corso di un servizio orientato anche alla tutela ambientale. Vista l'estensione della cava e macchina riempiegati, i finanzieri hanno effettuato tutta una serie di accertamenti sulle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività estrattiva, ma quel terreno a Grotta Rossa rientrerebbe all'interno dell'area delle miniere, essendo paesaggio agricolo collinare e zona tutelata sulla quale si poteva intervenire solo ed esclusivamente con autorizzazione della sovrintendenza. Inoltre, trattandosi di un bene protetto dal vincolo paesaggistico, non poteva essere destinato all'estrazione di materiale senza le opportune autorizzazioni che fanno rispettare i limiti previsti dalla legge.